mentre prima gli omosessuali erano tipicamente molto promiscui, adesso ci sono molti omosessuali che vanno in cerca di una monogamia stretta. Allora, questa è una libera scelta, quindi va benone, le libere scelte vanno molto bene e tutto quello che io sostengo non è che tutti dovrebbero essere promiscui o che tutti dovrebbero essere liberi sessualmente, ma soltanto che chi vuole dovrebbe poterlo essere senza essere danneggiato dagli altri, i quali peraltro se lo danneggiano forse vuol dire che non sono poi così contenti della loro posizione. Comunque, cosa succede con gli omosessuali? Allora, gli omosessuali perché erano molto promiscui? Perché erano comunque reietti, comunque condannati. Ora, nel libro io cito anche i passi del catechismo, dove è bellissimo il catechismo della Chiesa Cattolica, quello voluto da Voitiva e poi ristampato felicemente da tutti i papi, compreso il grande progressista del microfono, cioè Francesco, però Francesco è così progressista che quando gli mettono davanti un microfono dice delle cose, poi dopo il contrario che sta scritto sul catechismo della Chiesa Cattolica lo ristampa, quindi aspettiamo che al microfono segua anche forse la tipografia. In ogni modo, viene detto che l'omosessualità è un peccato grave se praticato. La grande pensata recente della Chiesa Cattolica è che se un omosessuale non pratica il sesso, allora non è colpevole. Quindi gli omosessuali non sono più condannati dalla Chiesa Cattolica, basta che siano casti, come un monaco. Allora, questo direi che oltre al danno è anche la beffa a questo punto. Però in ogni modo, gli omosessuali invece, infischiandosi nella Chiesa Cattolica, hanno conquistato sempre più diritti e quindi oggi non sono più condannati con la stessa sommarietà e generalità con cui erano prima. Allora, mentre prima, appena eri omosessuale eri fuori, e allora a quel punto, se poi facevi anche sesso promiscuo, non aggiungevi nulla al tuo essere fuori. Condannato per condannato vivevi come ti andava e ti liberavi del ricatto se fai sesso sei sbagliato perché eri già sbagliato. E allora appena uno era libero da quel ricatto sotto cui invece erano tutti gli altri, si vedeva cosa la gente vuole veramente. Erano tutti promiscui gli omosessuali. Poi cosa è successo? Hanno trovato la possibilità, e tutti ce ne rallegriamo, almeno io me ne rallegro moltissimo, di non essere più sbagliati perché omosessuali. Quindi ora anche gli omosessuali hanno modo di sentirsi fra i giusti. Ora questo denuncia la tesi del mio libro, e cioè appena tu ti senti fra i giusti, cominci a renderti conto che se poi sei, non so, hai una vita sessuale un po' libera, un po' spontanea, un po' promiscua, rischi di uscire dai giusti. E allora gli omosessuali diventano sempre meno promiscui perché sempre più si rendono conto che perderebbero la loro posizione di giusti faticosamente conquistata. Gli omosessuali combattono per avere dei diritti, tra cui quello di avere delle unioni sancite, eccetera eccetera, ma ancora la loro voglia di essere come tutti gli altri è tale che oltre che per i diritti degli altri, loro combattono per conquistare anche i doveri degli altri. Cioè ormai loro, molti omosessuali, vedono con piacere l'idea, ah bene, mi becco anche il dovere della monogamia, il dovere della non promiscuità sessuale, e anche non si rendono ancora conto che è una perdita, perché è talmente bello avere gli stessi doveri e le stesse fregature che hanno tutti, che per ora è desiderabile.